Mission Impossible 5 Tutto era pronto, tutto era stato predisposto e calcolato nei minimi dettagli. Le cinque teste di cuoio selezionate per la missione, armate fino ai denti e munite di passamontagna e giubbotto antiproiettile, erano appostate nei pressi del luogo X. Il soggetto da catturare è un pericolosissimo criminale, erano state attentamente messe in guardia. Lo vogliamo assolutamente vivo, ma in caso di resistenza a oltranza, qualora la situazione dovesse sfuggirvi di mano, non esitate ad aprire il fuoco. Del soggetto era stato anche fornito un dettagliato profilo psicologico da una squadra di esperti criminologi arrivati dagli Stati Uniti. Le cinque teste di cuoio erano ormai abituate a simili imprese, avendo a loro attivo la cattura di latitanti mafiosi, di parlamentari inquisiti e condannati e soprattutto di consiglieri regionali recalcitranti alle dimissioni. Ma stavolta l'operazione era davvero ad alto rischio, una vera e propria missione suicida. Al segnale prestabilito tre teste di cuoio si avvicinarono all'obiettivo, la quarta rimase di copertura nelle retrovie, la quinta in macchina col motore acceso. Sfruttando il fattore sorpresa, in un baleno furono su di lui e lo immobilizzarono. Ma il soggetto era davvero un osso duro, molto di più di come era stato descritto, iniziò a dimenarsi, a scalciare, a lottare con tutte le sue forze nel tentativo di sfuggire al placcaggio. La situazione stava precipitando, una delle teste di cuoio, la più calda, si portò le mani alla fondina ma gli altri lo bloccarono. In imprese come queste è in una frazione di secondo che ci si gioca la vita o la morte. Alla fine, dopo un serrato, furibondo, violento corpo a corpo, il soggetto fu trascinato con forza dentro l'auto, che sgommò via sirene spiegate. Nell'abitacolo della vettura si respirava l'odore acido dell'adrenalina. Le cinque teste di cuoio si lanciarono un'occhiata soddisfatta dai loro passamontagna. Non li avevano tolti, il prigioniero poteva riconoscerli e la vendetta è sempre in agguato in circostanze simili. L'operazione era riuscita. Ah, il soggetto catturato era un bambino di dieci anni, un temibile, irriducibile bambino che con le ultime residue energie pronunciò queste oscure e minacciose parole. Aiutami zia!